Come un fratello tra fratelli che non è forestiero tra i vescovi degli Stati Uniti perché viene da una terra anch'essa sconfinata, Papa Francesco ha parlato a lungo con i confratelli statunitensi nella cattedrale di Washington dedicata a San Matteo, senza tracciare programmi o impartire lezioni. Per questo in italiano ha innanzitutto lodato i 457 membri dell'Episcopato a stelle strisce per il coraggio con il quale hanno affrontato i momenti oscuri come la ferita degli abusi di membri del clero sui minori e il generoso impegno per guarire le vittime e operare perché tali crimini non si ripetano. Vi ha ringraziati per la generosità verso la Santa Sede e l'impegno in difesa della vita, della famiglia e la missione educativa ed ha chiesto di continuare ad accogliere senza paura gli immigrati, anche la nuova ondata latina perché questa gente arricchirà l'America e la sua Chiesa. Papa Francesco ha poi chiesto ai vescovi statunitensi di stare vicini ai sacerdoti perché non cadano nella tentazione di diventare notai e burocrati ma si alzino a rispondere a chi bussa nella notte. Li ha invitati a non fare della croce un vessillo di lotte mondane o preparare risposte dure alle già aspre resistenze perché la nostra cultura ha detto è quella dell'incontro e il dialogo è il nostro metodo. La via è pertanto il dialogo, dialogo tra voi, dialogo nei vostri presbiteri, dialogo con i laici, dialogo con le famiglie, dialogo con la società. Non mi stancherei di incoraggiarvi a dialogare senza paura. Tanto più è ricco il patrimonio che con parressia avete da condividere, tanto più sia eloquente l'umiltà con la quale lo dovete offrire.